Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Harmy's of Azeroth La mod di Starcraft 2 è praticamente come giocare su Warcraft 3 Tranne con il motore di Starcraft 2 Ecco oggi vi parlerò un po' degli orchi Questa qua è la nuova mappa che è stata aggiunta recentemente Credo oggi, ieri, non lo so quando è stata aggiunta, non ci ho fatto caso Comunque è un'occasione anche per vedere Adesso le strutture degli orchi E anche questa nuova mappa Che a quanto pare è una mappa per l'uno contro uno Il che sarà una cosa molto interessante perché potrò fare poi un piccolo gameplay in multiplayer Contro un altro giocatore Quindi, adesso vediamo un pochettino gli orchi Cosa è possibile fare, le caserme, le unità eccetera eccetera Un po' come ho fatto con il video degli umani, vi farò vedere cosa è presente attualmente nel gioco Quindi, proseguiamo Ci vorrà un po' di tempo per costruire anche perché gli orchi sono un pochino più lenti su certi aspetti O forse no Nel frattempo diamo un'occhiata un po' alla mappa Quindi C'è un campo rosso qui al centro Che non c'è un granché Alcuni punti verdi Oh aspetta, queste qua sono i... Come si chiamano in italiano? Ci senti? I laboratori goblin, ecco Certo, certo sì Ok, arriverà tra poco alla caserma L'altare delle tempeste Fatto anche piuttosto bene Mi piacciono molto Ok, i lupi sembrano quelli là tipo di Draenor Quindi Diciamo che alcune texture magari possono essere state utilizzate sicuramente da World of Warcraft Però non proprio tutto Ok, facciamo un grunt Ah, questo è diverso rispetto a World of Warcraft 3 Solitamente Cosa è che dice su World of Warcraft 3? Servono altre, altre tane? Non saprei Però Capo non me lo ricordo Dove essere una mia mancanza di memoria Comunque Ecco qua il maestro d'arme In teoria dovrebbe chiamarsi Un po' differente Sì, adesso Prima mi pare che fosse rosso O comunque un pochino diverso Ok, qui abbiamo il grunt Eccolo qui Molto simile a quella di Orgrimmar Per chi gioca a World of Warcraft Poi abbiamo la possibilità Sì, sì, un attimo La possibilità di fare un troll tagliatest E tu perché sei fermo non lo so Comunque Ok, ottimo Quale altra struttura posso fare La sala voodoo Dovebbe essere Andare a 3-2 direttamente ci vuole un po' ragazzi Scusatemi Magari posso anche sbagliare nome Comunque Adesso La sala del consiglio La tasumiamo in fortezza No, non era la fortezza Se non sbaglio Ah, non ricordo Comunque Tagliatest Come desideri Sì Ok Molto Mi piace come è fatto Anche se Come desideri Sì Qualcosa non mi convince Però Mi piace lo stesso Facciamo così Ok, proseguiamo Qui è possibile fare ovviamente L'epiclade La fucina di guerra Ok, molto bene Quindi dovremmo Mentre che aspettiamo A questo punto Faremo un po' di Esplorazione della mappa Che ne dite Allora Vediamo un po' cosa c'è qui Perché Non c'è nessun pallino Quindi non so se è stato solamente Dimenticato Oh, sì È stato solamente dimenticato Quindi ecco qui I nostri ogre Ogre Magi Wow Fatto molto bene Cioè il ritratto è fantastico In generale anche Cioè in generale Questi ogre sono fatti molto bene Comunque Proseguiamo un po' con La costruzione di varie unità Ora una cosa interessante È il Wind Walk Guardate un po' Perché in teoria Con questa abilità Il Maestro Dame Dove andare invisibile Oh Questa l'hanno modificata Perché prima Praticamente Quando andava invisibile Sembrava tipo I ghost O Cioè i fantasmi Oppure le banshee Quando vanno invisibili Oppure Nova stesso Se ce l'avete presente Tipo si vede Tutta quella Lineatura Azzurra Quindi Un'altra cosa Molto interessante Che hanno aggiunto Comunque proviamo ad attaccare Questi vizi Perché voglio vedere Il Laboratorio Goblin Mettiamo di Oh Supper Zeppelin E lo Shredder Vediamo lo Shredder Oh Fantastico Hanno fatto ottime aggiunte Sì ok Potrei anche perdere Qualche grant Ma non mi interessa Anche perché non c'è Nessun avversario Ok Vediamo Quindi questo è lo Shredder Il taglialegna Wow Però Fatto molto bene Cioè da parte che Fa un po' impressione Che sia Tra il creato È una macchina Così non parla Comunque Sa perché sarebbe I I guastatori Che per qualche motivo Sembrano dei fanti Ok Ok va bene Si è fatto esplodere Ok Ho Zeppelin Oh però Niente male Questo modello Non è stato preso Da nessuna parte È proprio Fatto a mano Completamente Questo Quindi Ora prendiamo Il demolitore Le catapulte Potremmo chiamarle La tenda spirituale E Il seraglio Ok Perfetto Vediamo un po' Devo anche vedere Se lo Shredder Ora non mi ricordo Purtroppo come si chiama In italiano Sì appunto È molto differente Perché come potete vedere Lo Shredder solitamente Dovebbe dare 200 di legno Invece qui mi dà l'impressione Che ne dia solamente 50 Vediamo 210 170 Quindi sono O sono 60 O comunque Non so se nello stesso momento Qualcun altro ha consegnato legne No Sono Esattamente 60 Ecco qua La catapulta O il demolitore Sono presenti Su Ad esempio Stando of Ancient Su World of Warcraft Non sono proprio uguali Sono un bel po' Differenti In effetti Quindi sono molto simili A quelle di Warcraft 3 Se vogliamo considerare Sono fatte anche molto bene Quindi su questo Non ci sono dubbi Ora Aspettiamo la costruzione Di altre strutture E nel frattempo Andiamo a girare un altro po' La mappa Anche per conoscere Perché qui in effetti Servono per forza Gli zeppelin Per andare a prendere Qualche espansione Si può dire Vediamo un po' Chissà se funziona Con la stessa meccanica Tipo di Starcraft Che se premo La cosa per far scendere tutti Si E funziona la stessa meccanica Wow Può essere molto interessante Ma non credo che su Warcraft 3 Sia proprio Un'idea geniale Comunque Cominciamo con Il cavalca al loop Ho bisogno di altre tane Considerando che C'ho Lo shredder In teoria Non dovrei aver bisogno Di altri peoni Per la legna Comunque Quindi questo vuol dire Che andiamo a prenderci Una piccola espansione Nel frattempo faccio Qualche altra tane Per velocizzare un po' Il tutto E ci muoviamo Nel frattempo Voglio fare anche un altro errore Ora che ci penso E vediamo Vorrei vedere un po' Il capo tauren Perché Lo so che era quello Che aveva Diciamo qualche piccolo difettuccio Nel movimento Più che altro Non altro Quante volte ho detto altro Non lo so Ok Ritratto Il cavalca al loop Una delle mie unità preferite Onestamente Tu dove stai andando Ok vediamo Il cavalca cieli Mi pare che lo chiamo In italiano Però è quello che è praticamente Il cavalca viverne Se vogliamo dirla Proprio tutta Ok come potete sentire Alcune cose sono infatti In un'esercizio Tipo quando finisce La costruzione Di alcune strutture Ok Facciamo il capo tauren Nel frattempo Ah dai forza Forza non questo Quanti c'è nelli 5 si Quindi va tutto bene Ok Ah credo il becco Ok Proseguiamo per cercare Di distruggere Magari qualche Altro campetto Vediamo soprattutto Cosa c'è al centro Uh lo sciamano Che Lo trovo Spettacolare Veramente Guardate un po' Il ritratto Il Il disegno Il tutto Fatto molto bene Anche il movimento stesso È Uguale Ok qui Cosa abbiamo Degli gnoll Ognoll Ah però Sono molto Fedeli Ah un'altra cosa Vediamo se Insomma della vitalità Che dovrebbe essere Manuale di vita Infatti Ok vediamo se funziona Ancora così Perché ho notato E se ci passate di sopra Lo prendete direttamente Per quanto riguarda I I tomi Il capo tauren In effetti Se pensate a Warcraft 3 Il movimento Anche su Lì è abbastanza Lento Quindi vediamo un po' Se metto l'aura Per la velocità Sì in effetti Aumenta la velocità Sì è molto simile Però devo ammettere Che mi piace davvero Tanto Come è stato fatto È Veramente fedele A World of Warcraft Su questi aspetti Ok vediamo un po' Cosa c'è al centro Per curiosità Oh Un re ogre Comunque Un capo degli ogre Wow Non mi ricordo il nome preciso Ah qua c'è Il cavalcacieli Vediamo un po' Cosa possiamo Vedere un po' Cosa c'è Diciamo che Assomiglia più che Alle viverne Assomiglia un po' Di più A quelle altre Sempre che assomigliano A delle viverne Però sono un po' Differenti Non lo so Se mi piacciono Poi ci di tanto Ora voglio passare Alla fortezza Ecco Questa è la roccaforte Ecco Non mi ricordavo Precisamente Molto bene Poi cosa abbiamo I dottori I dottori Ok Aspettiamo i dottori Nel frattempo qui Sta finendo La bestia codo Eccola qua Vediamo un po' Il disegno Sicuramente questo qui È stato fatto a mano Mi piace molto Anche perché Voglio vedere una cosa Certo la terra Le foglie diciamo Per terra non si muovono Proprio di tanto Quando le unità passano Ma credo che quello Dovebbe essere un incremento Micidiale Per quanto riguarda La grafica Eccetera eccetera Ok Il dottore Ah proprio c'è le ward Stiamo Non hanno il ritratto Ovviamente Però ovviamente Sono i Come li chiama Le sentinelle Tra virgolette Ok Passiamo Al Spirit Walker Ora Sentite li chiamo in inglese Vabbè Buonanotte Perché se no Qua mi sto scebellando Per cercare di ricordare Tutti i nomi precisi Ma non ci sto riuscendo Per niente Quindi Hai bisogno Del mio aiuto E allora Vediamo un po' Cosa altro c'è Da queste parti Questo Ah Mercante govlin Interessante Vediamo un po' Cosa ha da offrirci Se ci sono Gli scapponi Della velocità Morlock Morlock Non mi fanno impazzire Ma Tanto fate schifo Lo stesso Prevate Oh mamma mia Quanto siete brutti Mamma mia Quanto so brutti In generale So brutti Uguali Morlock Quindi sono perfetti Ah Mantello Dell'invisibilità Tra virgolette Se vogliamo chiamarlo così Una cosa che ho notato Che è molto carina Da vedere Notate un attimo Dove c'è il cursore Quando compro una cosa Ecco che esce fuori Un goblin Un inventario pieno Però per qualche motivo Me l'ha dato lo stesso Ok L'ha messo per terra Molto interessante Questa cosa Anche questo piccolo dettaglio Del goblin Che esce fuori E vi consegna La richiesta O la La chiamata Ma tu puoi andare Anche in forma Eterea Quindi è come se vai in stilt Ma in realtà Non lo sei Ok Ora dovrebbe mancare Solamente una struttura Che è Il totem Dei tauren Non mi pare Che mi Sfruttino qualcosa No Ah giusto Il berserker Vediamo un po' Facciamo questo piccolo Upgrade Ai troll Che dovrebbero diventare Troll berserker Quindi più pompati Diciamo Eccetera eccetera Andiamo un'occhiata Ah Poi posso fare anche Le difese fortificate Rinforzate Vediamo un po' Cosa cambia E proverò a mettere Anche Le difese Spinate Non ricordo ora Come si chiama Mi spiega Niente se fa cagare A certi momenti Comunque Vediamo Quindi queste isole Non posso raggiungerle A piedi Ah si Pensavo che fosse L'acqua un po' più Profonda Se deve essere sincero Comunque A quanto pare no Ok Quindi è un'espansione Molto Diciamo Sembice Su certi aspetti Ormai Ah Ho sentito Un bloodlust Ah ecco il berserker Cambia Il ritratto E anche L'aspetto Ovviamente Aumento di velocità Eccetera eccetera Però Voglio dare una cosa Perché Ho pensato A parte Cavalca Pivistrelli Voglio vedere Quando fanno Quando gli sciamani Fanno bloodlust Se C'è qualcosa Cioè Se tipo Cambia la grandezza Cioè Se funziona Correttamente La difesa Fortificata No Mi sembra che sia cambiato Sono io No Invece è cambiato Sì sì Queste cose non c'erano Quindi funziona Già Uh Però E alle torri Non saprei Ah qua C'è Cavalca Pivistrelli Ah Sì Molto simili Sono piccolissimi Pivistrelli Come sempre Ok Un'altra cosa Che purtroppo Non so se hanno sistemato Vediamo un po' È che quando le unità aeree Camminano Nello stesso gruppo Si Agrupano così Cioè O meglio Prima ovviamente Si ammucchiamano completamente Proprio su un Su un'unità sola Quindi mi sembra Un po' differente Perché prima Infatti Questo piccolo problema Possiamo dire Che rendeva I cavalca Pivistrelli Davvero Micidiali Per chi andava Con unità aeree Perché Immaginate Tipo Due cavalca Pivistrelli Che distruggevano Un esercito Di viverne Messe tutte quante Insieme In un punto solo Comunque devo ammettere Che La mappa Non mi dispiace Però Devo capire Da qui Credo che non si possa passare L'acqua È profonda Qui è bello profondo Sì Queste qua Sono isole vera e proprie Quindi in realtà Qui È possibile Prendere le espansioni Da questo lato E questo E per andare su queste isole Bisogna utilizzare Lo zeppelin Che si deve conquistare Da qui Ora Che ne dite Proviamo un attimo Ad affrontare Il campo centrale Aspettiamo il tauren Uh Bestione Però Mi piace Mi piace Assomiglia molto A quella di World of Warcraft Onestamente Ok Proseguiamo Non mi interessa Ripendo un po' A ignoranza Totale Sì in effetti Bloodlust Credo che funzioni Perfettamente Uh Interessante Come è morto Il cavalca lupia E la spada Ovviamente è andata A rotolare Fino alla sotto Molto interessante Davvero Ok Poi tanto per Lo stun Un'animazione Un po' più Decisa Ci vuole per quello No Poverito Ok Che cosa Dà in drop Questo Staff of silence Uh Micidiale come item Quindi Pagliente che riesce A conquistare Questo campo centrale Vince Tra virgolette Ci prende sicuramente Un oggetto Molto potente Comunque Ok ragazzi Dovrei aver coperto Un po' Tutte le unità Per quanto riguarda Gli orchi Quindi Al solito Vi lascerò Il link Alla descrizione Il link Per la pagina Della mod Qui sotto Nella descrizione E se il video Vi è piaciuto Lasciate un like Un commento Qui sotto E iscrivetevi al canale Per altri video Che arriveranno Molto presto E Da X7 Per il momento È tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ciao